Amici di Senza Giacca, della pancia del tifoso Napoli 0-Empoli 1 Non abbiamo potuto commentare questa partita dalla curva perché eravamo troppo intenti a capire innanzitutto il nostro stato d'animo, lo stato d'animo della curva la reazione e quello che sarebbe successo Vi dico che le curve hanno, entrambe le curve, salutato i giocatori sempre cantando e sostenendo mentre la tribuna e i distinti hanno subissato di fischi soprattutto Garcia Che dire ragazzi, io al di là della giornata di merda tra pioggia, acqua e 0-1 a 95 insomma è comunque una partita di merda sono abbastanza sereno perché se non lo esonero adesso questo schifo di allenatore questa persona bruttissima pessimo comunicatore, pessimo allenatore pessima anche persona perché si è posto proprio malissimo con i giocatori con l'ambiente, ha tirato il peggio di ognuno di noi forse come persona peggiore di Garcia c'è solo il presidente senza dignità perché ha accettato un cretino di presidente che sta agli allenamenti che entra tra il primo e il secondo tempo quindi c'è una persona veramente di una pochezza unica però io sono abbastanza sereno perché adesso lo deve per forza cacciare sicuramente non abbiamo un piano B ma qualsiasi persona anche Mazzarri anche Cannavaro che ha distrutto il Benevento Tutor che è un mezzo fascista metodi fascisti qualsiasi persona va bene siamo a un punto di non ritorno il Napoli l'ho detto purtroppo dalla terza e quarta partita non ha futuro e oggi per la prima volta ho visto i giocatori giocare contro perché per adesso l'impegno non era mai mancato c'era quella sensazione che il Napoli si impegnava ma non sapeva difendere non sapeva andare in pressione non sapeva attaccare non sapeva che filo mentale di gioco dovesse avere che approccio tattico però l'impegno non era mai mancato oggi vabbè Mario Rui entra fa finta di farsi male anche il sacco ma al solito scoglionato Zelisky che va a schela che inspiegabilmente li fa partire a livello punitivo sicuramente perché che fa il turno per le nazionali dalla panchina li chiama e loro si è visto proprio che facevano riscaldamento sbogliati i giocatori dell'Empoli fanno finta di farsi male nessuno che li prende nessuno che li caccia dal campo nessuno che lotta anche nelle fasi finali zero la sconfitta non ci sta perché non ci sta quelli hanno fatto un tiro alla fine ma il Napoli ha fatto una partita orrenda con una squadra scarsissima ragazzi se lo esonera non è perso tutto anche se è stato il trionfo della follia di un unico uomo che è l'unico responsabile di questo disastro che si chiama Orario De Laurentiis la sua follia mentale il suo ego ha distrutto un progetto che era vincente i giocatori sono sempre fortissimi lo saranno sempre ma senza una struttura societaria con un presidente subnormale senza un direttore sportivo senza un team manager senza un legame squadra società non si va da nessuna parte a questi livelli io spero che adesso arrivi qualcuno perché se non arriva ci sarà la guerra ci sarà la battaglia e chiunque arriverà io spero che possa fare sicuramente meglio di García sicuramente però naturalmente da oggi gli obiettivi sono completamente cambiati da oggi ci dobbiamo vedere Atalanta Lazio Fiorentina Roma e forse Milan le altre squadre Juve e Inter non le vediamo più e questa una tristezza incredibile la tredicesima giornata di campionato vediamo quello che succede da Napoli è tutto forza Napoli sempre Grazie a tutti